Siamo qui con un campione del mondo, niente che di meno Ciccio Graziani. Chiediamo a lui uno dei nostri spronostici. Roma-Milan domenica prossima, Ciccio. Roma-Juve. Roma-Juve, scusami. Roma-Juve di domenica prossima, un 2-2, spettacolare. Tutti felici e contenti, il pubblico si divertirà da morire e credo che ci sarà un olimpico festoso, anche perché con un punto la Roma conquisterebbe matematicamente l'accesso alla Champions. Va bene così. Quindi sei convinto del biscottone? No, non è un biscottone, è una partita che sarà aperta a tutti i risultati naturalmente perché la Roma vuol vincere e la Juve sappiamo che per natura non vuole mai perdere. Però io prevedo un bel 2-2 così tutti felici e contenti e finisce la stagione. Noi ieri avevamo detto che la Roma avrebbe vinto 8-0 e il Napoli avrebbe vinto a sua volta 8-0 per equilibrare la differenza reti. Non succederà. Ma se la giochiamo sulla Luna o su Marte potrebbe anche succedere, ma in Italia no. Grazie Ciccio. Grazie a voi. Un saluto ai senza giacca. Un saluto ai senza giacca. Come a Sky. Si leva la giacca a certi punti. Grazie Ciccio. Grazie a voi. Alla prossima.